Tra poco, Natale con i cuccioli! Ehi cuccioli! Siete pronti per il Natale? Viviamo la gioia di aiutare Babbo Natale e scartare insieme i regali! Sarà fantastico come inseguire le nostre code! Le vacanze saranno divertentissime con i Paw Patrol e Rubble & Crew! Unisciti a noi in avventure invernali con episodi mai visti prima! Non perdere Natale con i cuccioli! Alle 11 e alle 20! Solo su Nick Junior! Ed ora, Natale con i cuccioli! Paw Patrol! Paw Patrol! Saremo lì in un lampo! Perché se c'è un problema...